Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo vlog su recensione Apple Giochi Sapete cosa ho fatto oggi? No, non potete saperlo Allora, oggi ho installato Parallel Desktop 9 con Windows 8 ragazzi Non resistevo più alla voglia di provare Windows 8 E vi confermo che è una fantastica merda No dai scherzavo, a parte gli scherzi Allora, l'ho provato, sono rimasto veramente sorpreso da Parallel Desktop Perché? Allora, io avevo provato VirtualBox Avevo fatto anche il video, la video guida come installare Linux su VirtualBox E se ci installavi Windows 7, non potevi utilizzare Windows 7 o Windows 8 Non potevi utilizzare Windows perché VirtualBox non dava abbastanza risorse a Windows Non potevi però, incontemporaneamente, utilizzare Mac perché toglieva troppe risorse a Mac E quindi faccia schifo, diventa lentissimo Compara nel Desktop 9 Windows 8 gira veramente benissimo Quasi come se fosse un dual boot Perché veramente io non me ne accorgo neanche di avere Mac Appunto di essere su un sistema virtualizzato Un'altra fantastica cosa è che io utilizzo Mac E non mi accorgo neanche di avere un altro sistema operativo E io sto usando un MacBook Air, quindi non è che è un Mac Pro Quindi è veramente fantastico Allora, se questo video avrà successo Se mi chiederete di fare appunto una guida di come installare Parallel Desktop 9 Crackato Fare una guida, se no vabbè, fa niente Quindi andiamo subito ad aprire Parallel Desktop Eccolo qua E vediamo come funziona Ah, io ovviamente l'ho già installato Ho già fatto partire Ho già installato appunto Windows 8 Ricordo che Windows 8 Pro 8.1 Preview Quindi è una beta Adesso come vedete sta partendo Attendiamo ancora qualche istante Perché Windows sia V Eccolo qua Questa è la schermata di blocco Che tra l'altro non avevo neanche mai visto Non so come sbloccarlo Altretutto Codinante, ok Password Perché l'avevo mandato sempre in pausa, diciamo, il sistema Non so come si chiamava Windows La password è incorretta Ah, ok La password dell'email Fantastico, ok Avevo sbagliato password Pensavo che fosse la password del sistema Invece no È la password dell'email Ecco qua Windows 8 Ragazzi È incredibile la velocità Come è fluido Pur avendo dietro appunto Un altro sistema operativo Allora così Windows 8.1 Pro Preview Evaluation Copy Quindi Vi dicevo A parte l'avvio Io mi ricordo Windows 7 Sul PC Quell'altro Quello fisso Che ogni 2x3 C'ha fuori la rotellina di caricamento Qua A parte quando si accende Che ovviamente Sta caricando il resto Sta caricando il sistema operativo Però Non l'ho ancora vista Fuori la rotellina di caricamento Quindi Vabbè È un Windows 8 Qua vediamo Il tasto Start Che appare Perché È la 8.1 Infatti Microsoft Ha deciso di installare Questo pulsantino qua E Comunque niente In realtà io Non è che volevo installare Windows 8 In realtà io volevo Solo provare Parallel Desktop 9 Intanto ringrazio Mr. Leupold Ha visitato il suo canale Vabbè È un canale molto importante Molto grande Anche con tanti iscritti Lo ringrazio per averci Cioè per aver fatto la guida Su come installarlo E comunque Niente È veramente bello Appunto Se mi scriverete Nei commenti Di fare una guida Su come caricare Parallel Desktop 9 La farò volentieri Vi ringrazio per averci seguito Vi raccomando Di mettermi piace Commentare questo video Se volete Se volete altre informazioni Quindi commentate questo video Se volete altre informazioni Avete dei dubbi Mandateci pure Anche un messaggio privato Oppure un'email A recensione AppleGiochi Chiaccio La gmail.com E vi raccomando Di iscrivervi al canale E per non perdere L'installazione di Windows 8 Su Su Parallel Desktop Ciao